Benvenuti a questo appuntamento con Print and Planet. Avete intravisto nel video di apertura alcuni concetti chiave della nostra epoca, planet, people e community, ossia pianeta, persone e comunità. Questi concetti rappresentano ormai dei pilastri di un paradigma molto più ampio che si sta facendo strada nel dibattito pubblico, soprattutto dopo la pandemia, ossia la sostenibilità. Diverse grandi aziende ne stanno facendo un volano strategico di sviluppo e tra queste c'è anche HP che ha da poco lanciato Amplify Impact, un programma di formazione, valutazione e supporto in tema di sostenibilità dedicato ai partner del gruppo tecnologico che ambisce a creare un ecosistema di impresa tramite iniziativa di impatto sostenibile per il presente e soprattutto per il futuro. Se vi state chiedendo quale sia il legame fra queste sfide e il mondo della stampa, mettetevi comodi perché è esattamente ciò che stiamo per scoprire. Do il benvenuto all'ospite che ci aiuterà a capire meglio questo rapporto e che ci racconterà alcune esperienze concrete di sviluppo sostenibile. Andrea Pollastri, amministratore delegato di Copyworld, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie a tutti quanti, grazie per l'opportunità. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Andrea, se sei d'accordo, io ti lascio magari un minuto per presentarci Copyworld, poi entriamo nel vivo, abbiamo tante curiosità. Bene, allora una piccola presentazione in merito alla nostra azienda. La nostra azienda è un'azienda specializzata nella vendita, nell'oreggio e nell'assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per grandi aziende, piccoli gruppi di lavoro e diciamo anche singoli professionisti. Noi operiamo su tutto il territorio nazionale, abbiamo una sede a Firenze ed una filiale a Roma. La nostra esperienza è un'esperienza di oltre 30 anni nel mercato del printing ed oggi identificato meglio come il mercato Office Automation. Abbiamo un organico di oltre 60 collaboratori, all'interno del quale abbiamo un team di 20 risorse che sono professionisti specializzati e certificati per la parte di pre-vendita e post-vendita. La nostra struttura è divisa in 5 aree di business, abbiamo l'Office Automation, l'Information Technology, la parte mobile, visual communication e production printing. L'innovazione è sempre stata l'elemento prioritario della nostra visione. Questo ci ha permesso sempre di più di diventare partner a 360 gradi per i nostri clienti e quindi per essere in grado di poterli accompagnare durante tutto il periodo di trasformazione digitale, garantendo a loro innovazione, qualità, funzionalità e soprattutto sicurezza. A proposito di partnership, cosa significa per voi essere un partner tecnologico? Bella domanda. Partner tecnologico per noi da sempre significa essere in grado di uscire e sapere anticipare quella che è l'evoluzione delle tecnologie per poter poi innescare un processo di innovazione all'interno delle aziende, dei nostri clienti, che soprattutto per loro possa poi diventare un valore aggiunto alle loro organizzazioni. Grazie al nostro approccio, diciamo così, che parte un po' dall'analisi, siamo in grado di proporre poi soluzioni customizzate per poter poi garantire al cliente il massimo livello di efficienza. Offriamo un servizio di assistenza sia attraverso l'appdesk, quindi da remoto, che attraverso chiaramente l'intervento on-site e l'altra parte fondamentale di questo tipo di attività è la parte di formazione, che permette poi chiaramente all'azienda di imparare a gestire in maniera autonoma la quotidianità delle loro procedute, che sono tutte legate diciamo così alle soluzioni che noi gli proponiamo. Tu mi hai sentito mentre davo il benvenuto, l'ho detto anche a chi ci guarda che sei qua per aiutarci a capire meglio il legame fra la sostenibilità e la stampa. È un rapporto diciamo interessante, curioso, perché apparentemente non è così intuitivo. Ci aiuti a capirlo meglio, a inquadrarlo in profondità? Diciamo che le problematiche per quanto ci riguarda, diciamo in teoria le problematiche ambientali non dovrebbero essere mai considerate una moda solo esclusivamente del momento, ma in realtà in cui ogni azienda oggi si deve confrontare. Noi per questo ci impegniamo tantissimo affinché sia i nostri ambienti di lavoro, ma anche quelli dei nostri clienti rispettino sempre di più i più elevati standard, fornendo chiaramente prodotti efficienti, affidabili e a basso impatto. Per noi la sostenibilità è sempre stato un elemento fondamentale che sta alla base di tutti i nostri processi di innovazione, di trasformazione digitale, anche per le aziende. Unire tecnologia e sostenibilità permette chiaramente all'azienda non solo di crescere, di innovare, ma anche di differenziarsi e migliorare la propria immagine. Per noi, diciamo così, la sostenibilità non può limitarsi soltanto alla parte, al tema del green, ma deve essere estesa anche un po' alle dimensioni delle responsabilità sociali. Per noi, diciamo così, che questa parte qui, la nostra attività infatti non si limita solo alla vendita, ma prosegue con proposte poi di rinnovamento tecnologico, con una corretta poi gestione del fine vita dei nostri prodotti e soprattutto dello smaltimento dei prodotti obsoleti. Hai messo sul tavolo diverse sfide e chi ci guarda ormai sa quanto la sostenibilità sia importante, ma anche sfidante come fronte. È una partita che difficilmente si può vincere da soli, anzi forse quasi impossibile. Non a caso in apertura ho fatto riferimento al programma di DHP. Voi siete partner DHP, ci spieghi il valore di queste partnership nell'era della sostenibilità? Certo. Allora, per noi la partnership con HP è una partnership molto importante, consolidata ormai da qualche anno e diciamo ci permette di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti, perché grazie ai prodotti, diciamo così, HP abbiamo l'opportunità di offrire una ampia gamma di prodotti e di soluzioni e basandosi sempre su un unico obiettivo, che è quello più importante, sempre senza mai perdere di vista quello che è l'obiettivo della sostenibilità. Non a caso, per esempio, la visione di impatto sostenibile di HP, che è basata su tre pilastri fondamentali, che sono il pianeta, le persone e la comunità, si sposa perfettamente con la nostra filosofia. Lo stesso programma che HP ha studiato, HP Planet Partners, ci permette diciamo di offrire ai nostri clienti un servizio importantissimo per la restituzione e il riciclo delle apparecchiature informatiche e anche di tutti i materiali di consumo di stampa. Questo ci permette chiaramente di portare avanti un percorso verso un'economia circolare in cui sia noi che HP crediamo tantissimo. Ecco, Andrea, a questo proposito andiamo sul terreno della concretezza. Riduzione degli sprechi, gestione dell'efficienza, costi energetici. Ci aiuti a capire bene questo legame fra sostenibilità e stampa che impatti positivi ha? Chiaramente proprio l'ampia gamma di HP ci permette di offrire ai nostri clienti un prodotto capace non solo di soddisfare le esigenze quelle che sono operative in un'ottica di ottimizzazione dei processi e di conseguenza di costi, ma anche di garantire parallelamente un'eliminazione degli sprechi che chiaramente riescono ad essere funzionali ad un maggior rispetto verso l'ambiente. In virtù di questo infatti la conferma è che HP è il brand con un più alto numero di certificazioni ambientali, sia da un punto di vista grazie all'altissima efficienza energetica, ma anche alle tecnologie green, soprattutto di ultima generazione. Hai citato il tema della sostenibilità digitale prima, integrando sostenibilità e innovazione. Se pensiamo alla stampante, viene in mente una macchina dell'hardware, anche se in realtà il mondo della stampa sta vivendo una sorta di trasformazione ibrida tra online e offline. Voi come vi state muovendo su questo fronte? Diciamo che l'obiettivo della nostra azienda di Copyworld è quello comunque di proporre soluzioni altamente customizzate attraverso l'analisi verso i nostri clienti, che non si limitano semplicemente alla proposta del prodotto o della stessa soluzione, ma anche a servizi aggiuntivi. Nel caso specifico del printing, il valore della nostra consulenza sta da una parte nella proposta di soluzioni capaci di migliorare, sia da un punto di vista di sicurezza, la gestione dei processi e ridurre i costi, ma dall'altra parte anche la capacità di trasferire all'azienda un approccio molto più consapevole e di conseguenza più sostenibile e rispettoso verso l'ambiente. Ai nostri clienti noi forniamo strumenti proprio per monitorare le attività di stampa, che chiaramente inducono il cliente a minore spreco e quindi a un'ottimizzazione di quelli che sono di costi e di conseguenza a un minore impatto verso l'ambiente. Quindi non ci limitiamo solo esclusivamente alla fornitura del prodotto, ma a soluzioni e servizi che aiutano i clienti ad ottimizzare i processi, costi, ma anche a riuscire ad avere un minore impatto verso l'ambiente. Ripesco il tema della responsabilità sociale d'impresa che hai citato in una delle tue risposte. Vi sentite responsabili anche nei confronti dei vostri clienti? Sentite la responsabilità anche di doverli guidare verso questa nuova era sostenibile? Essere partner a 360 gradi per i nostri clienti significa accompagnare il cliente nel percorso chiaramente di trasformazione tecnologica, ma l'intento nostro è quello di riuscire comunque sempre e comunque di trasmettere i nostri valori, la nostra visione relativa sempre alla sostenibilità. Quindi anche durante questo periodo, che sicuramente è stato un periodo molto difficile sotto tutti i punti di vista, abbiamo cercato proprio di supportare le aziende in questa fase di evoluzione del mondo del lavoro. Abbiamo cercato proprio di accompagnare le aziende nel processo di migrazione verso queste nuove modalità lavorative che generano sicuramente benefici anche nella riduzione degli spostamenti, di conseguenza anche in un miglioramento dell'impatto ambientale. Andrea, siamo alle battute finali. Io vorrei portarti su un fronte particolare che vi riguarda, perché abbiamo parlato tanto di stampa, di stampanti, di innovazione, però so che voi siete andati ben oltre il mondo della stampa. Ci racconti che cosa state facendo oltre questo muro? Dare valore alla sostenibilità non si ferma chiaramente all'attività che facciamo sul mercato a rapporto con i nostri clienti, ma si estende soprattutto alla valorizzazione del nostro capitale umano e all'attenzione ai nostri ambienti di lavoro e all'utilizzo, diciamo così, di energia al 100% rinnovabile ed infine, non per ultimo, ad una partnership che ormai è da oltre 10 anni che abbiamo creato con Tridom. Questa partnership a noi ci consente di partecipare ad un importante progetto di responsabilità sociale. Nello specifico riguarda la piantumazione di alberi da frutto e forestali che oltre a compensare l'emissione di CO2 generate sia dalla nostra attività, ma anche dai nostri prodotti, perché come sappiamo purtroppo qualsiasi tipo di prodotto che noi proponiamo esiste, c'è un'emissione di CO2, quindi questo ci permette comunque in qualche modo di compensare questa emissione e quindi permette di dare il sostegno anche economico ad aree, diciamo così, svantaggiate. Un'altra attività che stiamo mettendo in piedi, in campo, in questo ultimo periodo, è una graduale conversione della nostra flotta di mezzi aziendali con veicoli chiaramente ibridi di nuova generazione. Continueremo ad investire nello sviluppo del nostro capitale umano e rafforzando sempre il nostro impegno verso la sostenibilità. Questo è quello che noi continueremo a fare con forza e determinazione. Andrea, ti lascerei con questo messaggio, un messaggio positivo, un messaggio energico. Noi, come abbiamo detto all'inizio, abbiamo cercato di raccontarvi, di spiegarvi questo legame fra la sostenibilità e la stampa. Il giudizio finale, ovviamente, lo lasciamo a voi. Io intanto ringrazio Andrea Pollastri di Copyworld per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per la bellissima opportunità. E ringrazio ovviamente voi che ci avete seguito. Un saluto da Print & Planet.